ciao amici di youtube ed eccoci qua ancora con un'altra recensione oggi parliamo di decespugliatore della lg motors un bellissimo decespugliatore molto leggero addirittura pesa sei chili quindi abbastanza diciamo comodo da tenere così in braccio e poter lavorare questo è un 52 cc come motore praticamente un raffreddato ad aria e un utilizza un vano per la diciamo per il consumo del carburante ed è a miscela del 3 per cento una cosa che praticamente dobbiamo anche specificare che ha l'accensione a strappo e poi in dotazione a una lama a tre punte con la testina batti e vai e possiamo anche parlare ad esempio di dell'asta che è un'asta sdoppiabile dove si possono aggiungere ovviamente opzionalmente altri accessori ad esempio questo decespugliatore può diventare un un potatore una zappettatrice addirittura oppure un tagliasiepe ci sono moltissimi accessori ovviamente opzionali come per esempio la pompa per l'acqua per poter fare appunto 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 dei piccoli prelievi del da una fontanella qualcosa c'è molto completo praticamente riesce a fare tantissime cose riesce a fare anche da soffiatore quindi anche questo si può utilizzare con l'accessorio adatto come soffiatore abbastanza robusto un materiale molto molto forte da insomma da poter lavorare senza problemi ed è un decespugliatore che secondo me è consigliabile un semiprofessionale tra l'altro permette di lavorare almeno quattro ore di continuo ovviamente poi bisogna magari lasciarlo due ore ovviamente a riposo prima di poter riprendere di nuovo il lavoro che dire di questo decespugliatore vedo che è una pugnatura molto molto ergonomica tutte le funzionalità che hanno diciamo le caratteristiche di un buon decespugliatore anche se un semiprofessionale devo dire che ottimo e lo consiglio a tutti quelli che vogliono acquistarlo bene se avete intenzione casomai di acquistarlo potete andare a vedere sotto il link di riferimento dove poterlo acquistare ok ci vediamo amici per il prossimo video per le prossime recensioni e ciao a tutti da saper fare youtube ciao ciao